Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video interattivo, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare un video, anzi vi dico subito di prepararvi la vostra domanda perché il video appunto si intitola Hai una domanda? Chiedilo ai tarocchi di Morgana. Benissimo, adesso vorrei che gentilmente prima di tutto vi rilassiate, vi concentriate sulla domanda che volete porre alle mie carte e scegliere una delle tre varianti che potete vedere, la 1, la 2 o la 3. Potete anche scegliere tutte e tre le varianti facendo per ogni pietra una domanda diversa. Andremo a vedere cosa le carte hanno in risposta alla vostra domanda, sarà un video diciamo molto ampio perché tenterò di capire in base alla vostra domanda, cercare di canalizzare qual è la vostra domanda in base alla risposta che le carte daranno. Ricordo che per comodità io parlo al femminile ma il video è rivolto a tutti quelli che lo stanno guardando e ricordo pure che è un interattivo e non può sostituire una lettura personale. Per questo vi chiedo cortesemente di prendere ciò che risuona con la vostra domanda, con la vostra vita, con la vostra situazione e lasciare andare il resto perché potrebbe essere che ci siano altre persone a cui quella determinata affermazione che non risuona a voi risuona ad altri. Ecco perché si chiamano appunto interattivi. Benissimo allora iniziamo subito con la variante numero uno per chi di voi sceglie la pietra verde. La metto qui vediamo se si vede, si si vede benissimo e iniziamo subito a vedere che tipo di persone sono interessate dalla variante numero uno per cercare di capire se è la variante che vi può appartenere anche perché come ripeto sempre scegliere la variante è una questione di fortuna ma con qualche piccolo accorgimento possiamo anche capire se è la nostra variante oppure se se non lo è. Vediamo intanto che tipo di persone ci sono in questa variante. Allora sicuramente qui abbiamo a che fare con qualcuno a cui piace passare del tempo all'aria aperta. Le persone legate alla variante numero uno sono delle persone che sono abbastanza decise, hanno in mano la loro vita, sono abbastanza determinate e sanno quello che vogliono e come ottenerlo, infatti hanno in mano le chiavi, cioè hanno in mano quasi sempre la soluzione a tutto quello che diciamo sono le loro domande e diciamo i loro quesiti oppure magari i piccoli intoppi che possono avvenire nella vita, loro sicuramente hanno sempre la chiave giusta per trovare la soluzione e sono delle persone a cui piace stare all'aria aperta, vivere la natura e stare in compagnia soprattutto. Questo è quello che le carte mi dicono per le persone legate a questa variante e le mettiamo da parte. Adesso andiamo a vedere nello specifico che domande hanno fatto queste persone alle nostre carte. Vediamo un po' che tipo di domanda, che tipo di risposta hanno le carte per queste persone. Vediamo un pochino. Allora, quello che posso vedere dalle prime tre carte che mi vengono fuori da queste bellissime sibille è che queste persone sono abbastanza in questo momento fiere di se stesse, sono fiere di se stesse perché sicuramente hanno in pugno, come dicevo prima, hanno sempre la soluzione ad ogni loro problema, sicuramente stanno per avere o hanno appena avuto una rivalsa su una nemica o quantomeno sia potrebbe anche essere su una persona, cioè diciamo la rivalsa, la giustizia, su una persona che si è comportata male con loro o quantomeno hanno trovato il modo di tirarsi fuori da una situazione che li aveva alquanto angustiati. Questa soluzione che sono riusciti a trovare o che riusciranno a trovare, queste persone li rende proprio molto orgogliosi di se stessi. Sicuramente sono riusciti a trovare, diciamo, a conquistare quello che era il loro sogno ambito. Sicuramente la domanda che voi mi state facendo è una domanda relativa a un qualcosa che voi volete terminare, volete conquistare, volete finalmente un'affermazione positiva riguardo ad una situazione che poteva essere abbastanza complicata. Qui le carte mi parlano appunto di una punta di orgoglio, di una punta appunto di prestigio che voi sicuramente riuscirete ad avere o avete appena avuto e anche per quanto riguarda potrebbe essere una questione lavorativa, una questione sentimentale, anche la conquista di una persona che magari vi era stato detto che non sareste mai riuscite a conquistare, diciamo, la rivalsa su una situazione che sembrava molto molto problematica. Potrebbe anche essere la riuscita nel fattore lavorativo dove magari c'erano delle invidie, c'erano delle gelosie che vi portavano fuori strada, che vi avevano diciamo fatto un po' scoraggiare, ma vedo che questa sarà sicuramente per voi una risposta di conquista in base alla domanda che state ponendo alle carte. Andiamo a vedere cosa ci dice la risposta degli angeli, andremo a prendere solo una carta, perché poi andremo a... è uscita questa... aspetta! Interessante, interessante come risposta degli angeli, cioè in un certo senso le carte vi stanno dicendo di aspettare un altro po', di non essere troppo frettolosi, ma di aspettare un altro po' perché appunto quello che voi avete in mente, il vostro desiderio più grande di conquista, di rivalsa, di giustizia, sicuramente andrà a buon fine, però non dovete avere fretta, dovete essere un pochettino più pazienti, dovete aspettare un altro po', magari voi mi potete dire sì, ma è tanto tempo che aspetto questa risposta, è tanto tempo che aspetto questa conquista, questa rivalsa, io non sono più paziente, invece no. Se le carte vi dicono di aspettare è perché qualcosa all'interno del vostro fado, all'interno del vostro destino appunto si sta muovendo per cercare di mettere appunto tutto quello che serve per darvi una soluzione il più positivo possibile per voi. Andiamo a vedere i miei oracoli, cos'è che vi vogliono suggerire. Vediamo un po'. Allora. Appunto questa, questa, questa sorta di rivalsa che voi avete in, in questa domanda che state facendo alle mie carte e appunto perché c'era proprio stato un blocco, un blocco della vostra serenità, un blocco di tutto, di tutta la passione che voi avevate messo nel mettere appunto questa situazione e sicuramente avevate anche avuto un rifiuto, cioè voi vi siete un pochettino demoralizzati appunto perché avevate avuto un, un primo rifiuto di questa situazione o di questa persona. Dipende sempre voi che tipo di domanda avete fatto. Però quello che mi dicono le carte è che sicuramente voi, aspettando un altro pochino, mettendo in campo un pochettino più di tranquillità e di serenità, riuscirete a ritrovare la serenità e appunto le carte vi dicono di aspettare anche se capisco che il blocco di quello che poteva essere diciamo l'esplosione della passione che voi avete messo in questa situazione vi ha diciamo un pochettino fatto arretrare diciamo il rifiuto che c'è stato, il blocco che c'è stato vi ha fatto un pochino perdere la serenità ma tutto questo non è perso perché le carte appunto vi dicono che a breve con questa piccola attesa che le carte vi suggeriscono di avere, di aspettare un altro pochino sicuramente tutto si sta muovendo in vostro favore. Vediamo cosa ci dicono ulteriormente i nostri carocchi. vediamo un po' se c'è qualche altra cosa che vi vogliono far sapere qui ci sono delle forze che sono a vostro favore sì 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 ne prendo un'altra bellissime queste carte proprio bellissime mi raccomando ascoltate quello che le carte vi dicono siate determinati nel senso siate determinati e siate proprio convinti di quello che volete convinti che ce la potete fare perché tutto si sta muovendo, tutte le energie che si stanno muovendo in questo periodo si stanno muovendo a vostro favore che sia una questione sentimentale, che sia una questione lavorativa sicuramente voi con la determinazione che fino a questo momento avete dimostrato riuscirete a conquistare ciò che il vostro cuore desidera al di là delle negazioni, del rifiuto e dei blocchi che ci sono stati in passato. vediamo come le mie Lenormand concludono la stesa ne prenderemo appunto soltanto una per concludere destino appunto è nel vostro destino che tutto vada per il verso giusto è scritto nel vostro destino che voi riusciate a riaffermarvi in questa nuova situazione e sicuramente il destino in questo momento al di là di quello che voi potete pensare sicuramente sta lavorando per mettere appunto tutto ciò che diciamo ci vuole tutte le piccole minuzie che ci vogliono appunto per farvi avere una grande vittoria una grande conquista che vi riempirà di orgoglio e di prestigio. Bene ragazze della prima variante questa è la vostra stesa se vi fa piacere scrivetemi un commento per magari farmi sapere se risuona in qualche ambito della vostra vita se volete approfondire la variante mi potete contattare all'indirizzo di posta che trovate giù e io passo alla variante 2 eccoci alla variante numero 2 per chi ha scelto la pietra arancione andiamo a vedere che tipo di persone sono legate alla variante numero 2 vediamo se ci dice magari qualche caratteristica in modo da capire se siete se siete voi oppure no allora sicuramente questa variante è dedicata a persone che alcune di voi potrebbero amare il viaggio potrebbero amare viaggiare altre legate a questa variante potrebbero essere delle persone che in questo momento sono tormentate da una storia diciamo sentimentale o da una qualche situazione che si è venuta a creare nella loro vita che li sta un po' tormentando perché vedo qui magari una possibile separazione una separazione tormentata e un qualcuno che si tormenta perché non riesce a capire bene la situazione che si è venuta a creare e sta cercando in qualche maniera di avere delle informazioni più approfondite sulla questione andiamo a vedere cosa ci dicono subito le nostre sibilline anzi sibilline che sono delle carte molto belle ma anche molto grandi però io sono molto attirata dai disegni delle carte spostiamo un attimo queste queste qua le vedete anche se le metto più in qua benissimo vediamo un po' benissimo allora qui abbiamo sicuramente un esito molto ma molto positivo della vostra domanda in che senso? allora potrebbe anche significare che tutti i dubbi che voi avete sulla situazione tutti i dubbi che voi avete che qui mi vengono dimostrati i dubbi che voi avete sulla situazione in questione trovino un piacevole riscontro un piacevole riscontro potrebbe essere che se si tratta di una situazione sentimentale su cui avete magari qualche dubbio sicuramente questo dubbio magari potrebbe anche dissolversi in un semplice fraintendimento mentre potrebbe anche significare per altre di voi che quello che voi sospettate sia realmente quello che è diciamo nella realtà cioè i dubbi sono realmente quelli che voi e poi vi verranno confermati però anche se diciamo potrebbe essere una brutta notizia momentanea sicuramente sarà il vostro successo in che senso? qui c'è un aiuto invisibile c'è qualcuno che sta lavorando al di sopra di voi c'è qualcuno che vi vuole bene al di sopra di voi che potrebbe essere sia una persona fisica ma anche potrebbe essere una sorta di energia che sta lavorando a vostro favore in modo che voi possiate trarre il meglio da questa situazione anche se magari voi non vedete subito che possa trattarsi di una cosa positiva per voi ma sicuramente quello che le carte mi dicono è che il successo e la fortuna è proprio dietro la porta successo e fortuna potrebbero essere anche a livello materiale, a livello lavorativo, a livello di un'eredità a livello di una nuova conoscenza, a livello di sapere la verità sicuramente c'è qualcosa come ripeto al di sopra di voi che sta lavorando per il bene della vostra persona per il bene di questa situazione che vedo un pochino che vi sta tormentando al di là che sia una situazione che si evolverà in qualcosa di futile che è stato solo nella vostra mente o al di là che siano confermati i vostri dubbi e voi diciamo chiudiate quella che è la situazione attuale le carte dicono che intubbiamente in tutti e due i casi sarà sicuramente la vostra fortuna e al di là che voi facciate, diciate qualcosa o non facciate, non diciate niente le cose andranno sempre per il verso in cui devono svolgersi andiamo a vedere cosa ci dicono le risposte dei nostri angeli appunto come dicevo energie superiori o magari potrebbe essere anche una persona fisica, una persona a voi vicina che sta facendo in modo che tutto vada a favore vostro sei pronto? è tutto pronto perché voi abbiate appunto la conferma che tutto ciò che voi pensiate potrebbe essere vano come potrebbe essere confermato però sicuramente è un qualcosa che andrà a vostro favore e dico quando mi esce la carta sei pronto io dico anche in tempi abbastanza brevi dico io nell'arco di qualche settimana poi voi magari mi confermerete nei messaggi dovrebbe diciamo svilupparsi tutta la situazione se per alcuni di voi diciamo già non si è sviluppata e fatta avanti voglio dire allora sicuramente qui le carte mi parlano che ci sono state delle ombre nella vostra situazione ci sono state delle ombre che anche se voi ci avete messo tutto il coraggio possibile proprio l'indifferenza e il rifiuto di accettare determinate situazioni oppure di vedere realmente come i fatti si siano svolti vi hanno portato appunto alla situazione che state vivendo attualmente in che senso sicuramente ci sono state delle persone che hanno gettato ombra su questa situazione ci sono state delle persone indifferenti ci sono stati dei rifiuti che voi avete dovuto per forza accettare la soluzione che la fortuna e il successo e questo aiuto che vi verrà da energie superiori vi è stato concesso vi è stato concesso appunto perché voi avete dimostrato un coraggio un coraggio che poche persone hanno nell'affrontare tutti questi tre step che vi hanno diciamo fatto un pochettino non dico demoralizzare ma vi hanno un pochettino messo alla prova tutto quello che vi è successo e per il quale siete state messe alla prova sicuramente ha messo diciamo vi ha fatto uscire fuori tutto il coraggio che avete dimostrato anche semplicemente nell'aspettare perché ci vuole coraggio anche nell'aspettare gli eventi che si evolvano in un certo modo ecco che questa energia che si sta sviluppando intorno a questa situazione ha deciso di darvi finalmente la possibilità di vedere le cose realmente per come stanno in un modo o nell'altro saranno sempre a favore vostro vediamo i nostri tarocchi cosa ci dicono vediamo un po questa è volata qui devo dire che tutto è pronto è come diceva la carta sei pronto qui è tutto è pronto per un nuovo inizio siete cresciute abbastanza siete cresciute abbastanza tutti arcani quasi maggiori tutti tutte carte molto ma molto belle allora tutto è pronto per questo nuovo inizio siete cresciute abbastanza avete preso le vostre decisioni avete sicuramente avuto una vittoria interiore verso di voi e sicuramente adesso vi vede pronte ad affrontare questa nuova situazione che diciamo vi porterà alla soluzione di quello che è stato tutto il contorno tutto quello che si è sviluppato al di là cioè tutto quello che si è sviluppato intorno alla vostra domanda e alla vostra situazione sicuramente qualcosa è cresciuto qualcosa si è dovuto evolvere qualcosa e qualche decisione è stata presa questo vi ha portato ad essere molto più affidabile con voi stesse molto più concrete e devo dire che diciamo il destino ha messo tutto al proprio posto in modo che voi possiate sicuramente trarne il meglio da quello che è l'esito che vi darà la situazione in sé devo dire che è una stesa molto positiva al di là che quello che si evolverà potrebbe essere negativo al momento ma sicuramente sarà positivo per la vostra persona vediamo come si conca valiere sicuramente è un qualcosa che se non si è già manifestato alla vostra persona alla vostra situazione sicuramente a breve si manifesterà io dico nel giro di un paio di settimane bene ragazze della seconda variante questa è la vostra stesa se vi va lasciatemi un commento per sapere se risuona con la vostra vita se volete approfondire la variante potete contattarmi all'indirizzo di posta e io passo alla variante 3 eccoci con la variante numero 3 andiamo a vedere che persone sono legate a questa variante vediamo un po' allora vediamo un po' allora qui c'è una situazione un pochino così cioè è come se vedo che qui in questa situazione ci sia una delle due parti una delle parti in causa di questa situazione o quantomeno voi prettamente interessate alla domanda che sta aspettando un qualcosa sta aspettando che un qualcosa si avvicini proprio in modo molto molto forte a voi stessi qui abbiamo a che fare con una qualche persona che appunto sta aspettando in questo momento qualsiasi cosa questa persona abbia in ballo non riesce a trovare una soddisfazione questa persona è abbastanza indifferente questa persona è abbastanza pensierosa qui abbiamo una persona che sta attendendo l'arrivo di un qualcuno di un qualcosa di particolare siete proprio in attesa che appunto le due metà si tocchino per avere finalmente una risposta più concreta e risolutiva vediamo un po' cosa ci dicono le nostre carte vediamo un pochino immaginavo qualcosa del genere allora sicuramente qui c'è un qualcosa che riguarda una situazione a due una situazione una situazione a due perché qui mi parla appunto di un fidanzamento che un'unione un qualcosa che per riuscire ad unirsi per riuscire a concretizzarsi sta aspettando che arrivi una comunicazione sicuramente per quanto riguarda una questione lavorativa o un qualcosa che riguarda uno dei due nella sfera economica lavorativa un qualcosa che riguarda un accordo più che altro un accordo fra le due parti senza questo tipo di accordo ecco che questa unione questa relazione non può prendere diciamo il volo non può essere concretizzata ed ecco che siete in attesa appunto di questo tipo di comunicazione quantomeno altre di voi potrebbero aspettare che un loro diciamo amore torni da un viaggio di lavoro aspettano appunto la notizia magari di un trasferimento di un di un qualcosa di un riavvicinamento sicuramente una delle parti legate da questa unione da questa da questo fidanzamento chiamiamolo chiamiamolo unione perché fidanzamento potrebbe essere semplicemente legato a due persone che vogliono stare insieme invece qui le carte possono parlare di un qualsiasi tipo di unione o di incontro sicuramente qua si sta aspettando come dicevano le carte iniziali si sta aspettando appunto che venga fuori questa questa comunicazione questo importante messaggio che appunto riguarda affari denaro commercio lavoro trasferimento qualcosa del genere vediamo cosa ci dicono le carte e poi se gli oracoli ci diranno se questa comunicazione avverrà oppure no sicuramente state aspettando una risposta quantomeno ripensaci qui c'è qualcosa che riguarda sicuramente la decisione da prendere qui c'è una decisione da prendere per alcuni di voi che riguarda sicuramente o un trasferimento un cambio di lavoro un qualcosa che potrebbe o riavvicinare o allontanare una ipotetica coppia ripensaci perché potrebbe essere che qualcuno non si vuole allontanare allora le carte vi dicono di ripensarci o qualcuno che diciamo deve prendere una decisione di trasferimento o di ritorno e appunto di pensarci bene prima di magari prendere una decisione che in questo momento potrebbe sembrare corretta per la situazione ma invece che poi potrebbe risultare un amaro pentimento di non aver fatto o di aver fatto vediamo cosa dicono i miei oracoli allora sicuramente qui avete a che fare con un qualcosa che si sta mettendo in modo cioè sta crescendo appunto questa vostra questo vostro desiderio di conoscere questa decisione di prendere questa decisione sicuramente sta crescendo esponenzialmente all'interno di voi stesse le carte vi dicono di guardare bene attorno a voi e soprattutto di seguire l'intuito perché il guardare attentamente attorno a voi spiare i comportamenti di determinate persone non solo vi fa crescere a livello proprio di pensiero di evoluzione di conoscere che tipo di persona avete accanto magari alcuni di voi devono decidere per un lavoro devono decidere per un trasferimento ecco perché la carta dice di ripensarci perché quello che vi viene proposto come una crescita potrebbe non esserlo e allora le carte che cosa vi suggeriscono vi suggeriscono di guardare attentamente di seguire l'intuito perché la verità potrebbe essere nascosta in una piccolezza in una parola, in un gesto, in un qualcosa che viene detto e magari poi non più approfondito perciò le carte vi dicono di fare attenzione a quello che potrebbe essere la vostra scelta definitiva ripensarci bene, guardare attentamente, controllare attentamente e soprattutto seguire l'intuito perché è lì che si nasconde la verità che vi potrebbe aiutare a crescere o quantomeno crescita potrebbe essere intesa come verità e poi giustamente come intuizione per prendere la decisione giusta appunto qua mi dicono di riflettere per riflettere appunto prima di prendere questa decisione riflettere bene prima di prendere questa decisione cercare di avere tutti gli elementi, studiare bene quello che è la situazione quello che è il campo dove si dovrebbe andare a lavorare dove si dovrebbe ritornare qualsiasi cosa sia legata alla vostra situazione vi dicono di studiarla bene inquadrarla bene, essere più saggi essere più consapevoli, sapere di più studiare di più appunto e fare una scelta che non vi porti poi a una sofferenza perché una scelta fatta troppo in modo affrettato potrebbe poi in seguito portarvi una sofferenza che non solo non meritate ma oltretutto non ne vale neanche la pena perciò aspettare sì però aspettare studiando aspettare e diciamo allo stesso tempo controllare bene quello che si va a fare o quello che si vorrebbe andare a fare o quantomeno quello che vi viene proposto anche di fare ecco qua quello che riguarda questa situazione che può essere legata sia a una questione lavorativa ma potrebbe anche significare qualcosa legata ad una situazione che non vi viene chiarita che non vi viene sicuramente esposta in tutte le sue particolarità in tutte le sue clausole ecco perché le carte vi dicono di guardare attentamente prima di decidere prima di decidere guardare attentamente informarsi essere più a conoscenza di tutto quello che c'è intorno a questa situazione e lì con il vostro intuito riuscirete a capire qual è la verità legata a tutta questa situazione e sicuramente riuscirete a capire qual è la decisione giusta da prendere bene ragazze della terza variante questa è la vostra stesa se vi fa piacere lasciatemi un commento per sapere se risuona in qualche ambito della vostra vita vi ricordo che il mio indirizzo di post per approfondire una variante o contattarmi lo trovate giù nelle info vi ricordo che da qui alla fine del mese i consulti privati sono di nuovo in promozione se ne volete approfittare io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video